Eccolo di panica adesso Eeeh 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 Sì Aspetto Nerval Adesso ma qual'è lo scopo del fare Nerval? Cioè, fare Nerval per evocare lui? Cioè perchè? E Nerval aggiunge, poi faccio Keras, capo Cioè, soltanto per poter mandare in due decimitario? Sì, ok Perfetto special zoom Poi faccio Keras, effetto Eeeh, po' di scolo Cioè, che fai fatto bambissimo Eccolo Siiii Eccolo 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 Cioè, ok D'acqua 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 Si Sì, ok, è proprio così. Quindi lei pesca una, mette una sotto al mazzo, lei banno senza perché trova. Ok. Allora... Se devi rispondere, devi fare il tuo ader, alla città di lei. Alla città. Se devi attivare qualcosa. Devo attivare qualcosa. Allora, se devo attivare qualcosa... Allora, se devo attivare qualcosa... Allora, se devo attivare qualcosa... Allora, se devo attivare... Allora, se devo attivare qualcosa... Non può scriverla... Non può scriverla perché c'è un'ora... Non può scriverla perché c'è un'ora... Quindi... Sì, vanno. Vado? Sì. Vesco... 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 Non posso... Non posso... Vesco... Grazie. 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 Servizio. Se ti prendi la mano. Sì. Ok. No! A scopo una cazzata. No! Non l'attiva. Allora. Posso fare questo? No! No! Posso fare direttamente in gauge. Sì. Sempre venuto. In gauge. Prendo... Ti ho, giusto? Lo so che ti ho qua. Lo so che ti ho. Si sta. Stanno guardando? No, non stai in streaming, stai a passo Ah, si grazie Sto a fare una prova giusto per... Grazie Che domani dobbiamo fare lo streaming e voglio capire come... Però siete benissimo Ti sento pure? No, ottimo Allora, attiverei Quindi direi... Michele, si Guarda, guarda un po' Un altro po' Posso? Posso? No L'esperienza non può startare Non può startare ... ... Non ha senso farlo. Non ha senso farlo. Scusa, non ho senso. Scusa, non ho senso. Non ho senso. Scusa, non ho senso. Siamo in combat. Sarebbero 3.000 e 1.500. Vado a 3.500? No, sono 3.500. 4.500, quindi 3.500. Sono 4.500 totali? No, 4.500 totali. Prendo 4.500. Ok, prendo 4.500. E poi, una volta per turno, posso persi una carta che controllo e la distruzione. Quindi lei mi deve spaccata. E poi, sentiamo. Asciutto, asciutto. Facciamo così. Qui. Chiudiamo un po' cattine. Qui cosa c'è? Questa. Questa. E basta. Qui non posso aggiungere nessuna di queste qua. E la posso aggiungere. Quindi, end face. Vediamo un po' cattine. La posso aggiungere. Quindi può far comodo. La posso aggiungere. Questa. No. Questa. 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 Oh no. Non so niente 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 Faccio Normal 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 Sì Ma dovrei fare il pezzo Di Come dire Il pezzo tuo O dal cimitero Anzi Prima Tu di scena Ok quindi mando al cimitero Perfetto Inerba al dal cimitero Faccio E poi faccio Perfetto 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 Inerba Perfetto Inerba Penso Vai, esco, si torna, passiamo a questo, prima, due, 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 due. Un minuto? Si. Combat? Si. Il 1500, il 1500 è fatto il suo, quindi, ecco. Ma sbagliato, mi sono avuto un libro per mettermi, mi nemmeno. C'è l'importante che sia la casa per le 8, però ci arrivo a casa da Biotto, sono le 25 adesso, oddio. Sono trovato traffico in un quarto d'ora, ce la faccio. Le cose... Le talent invece sono sport. Ah? Riesca a farmi la regalo di Natale di Gencio ogni volta qua? Adesso le entrate 4 sono gamma, se te le puoi permettere, droll, lancer, stop. perché non è vero proprio quanti nozzi porti, diciamo almeno sopra prima, capite? invece lancia e droga, negano la meccanica dei nozzi negano il problema, non è vero, non è vero si, 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 si aspetta un attimo vuoi fare solo con i segnali? io ci provo Un effetto di omicrono. Perché se ho fatto? Ma lo faccio subito o no? Ha fatto un problema, ha fatto il senso di testo. E' un fatto che ha perso. Proprio adesso. Proprio ora. Allora, potrei cercare in qualsiasi momento adesso. E' di domanda. Un volo, eh. Un volo, eh. Un salto, un rivoluzionario. No. Questa. Scusate. Scusate. E' parto io di nuovo? Sì. 3, 4, 5. Parto di nuovo, io mi dice pari di nuovo? Ma non è giusto. Ok, così la forza posso fare. Vediamo un po'. Però posso far tornare in modo. Allora. Sì. Non si fa troppo. Sì. Ok, quindi questo è il turno. Non posso prendere. Esatto. Non lo fare l'uso di infassiore adesso. Non ci ho pensato. Mannaggia, sta a pensare. E' un po' normal. E' un po' di nuovo. 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 Ok. Ok. Sì. Ok. Allora, però aspetta. Comunque se l'ha fatto in risposta a lui. Questo l'ha fatto in risposta a l'azione. No, no. Ok, allora provo a tenere in mano questo, per sicurezza. Eeeh, lei? C'è. Tanto non posso attaccare la DA, quindi ha poco senso. E niente, per forza così è un po' sprecata una cosa, ma non posso farlo altrimenti. Eeeh, no, no, comunque lei la metto. Eeeh, sacchiello 2, e ok. Eeeh, stavano che riescono a sentirci, no? Eeeh, thank you, ok, lei cosa faceva? Ancora, aggiungere un po' giro adesso. Ah, ok, sì. E, tra una dica cosa, non c'è un progetto a incontro che da calcio, non c'è più... Faccio effetto, Gartan. Faccio prima... Ciao! Ciao! Buongiorno! 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 Ehm, sì, per farlo, mi sa puoi entrare. Buongiorno! 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 Ok... ...e faccio... ...le vostri... ...fraffer... ...le vostri... ...fraffer... ...le cerchi... ...vado a marzo... ...sì... ...fraffer... ...ok... ...e faccio special... ...sì... ...effetto... ...perché c'hai il nuovo della mano... ...o ci mi dado... ...ah, c'è il terreno... ...ah, c'è il terreno... ...cioè, bello! ...tu posto? ...e posto... ...e ok, va... ...no, aspetta... ...no, aspetta... ...masquanto solo... ...masquanto solo... ...masquanto... ...ehm... ...tu perseglieresti lui... ...no, non targhetta... ...non targhetta? ...no... ...non targhetta... ...però su... ...lui è già nel... ...quandrevo qui... ...in risposta a questo punto farei... ...così... ...ehm... ...ehm... ...fazio... ...per effetto... ...sino... ...speciale... ...van bene... ...ehm... 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 adesso vediamo un pochino io ho paura di quelle due carte sicuramente va delle due di modere a volte ne sono sicuro però potresti anche giocare in permanence quindi è un problema allora oppure no oppure no si oppure no ma che fa dei sidermi in ammiglia tu ne fa dei sidermi in ammiglia però lo fai così poi provo poi comparte? si la fai 1300 si si anche in grigio si come no risco si ah no anche in grigio si 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 sorry ok ok allora segari qua segari qua segari segari fai un dottori va bene ok va bene va bene va bene va bene va bene allora segari 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 faceva bene si 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 Poi, lo provo a doi, farei... Bandamento... Bandisco... Bandamento, scusate... No, no, bandamento... E risposta, scusate... Poi, lo provo a doi... Bandisco fuoco, scusate... E... Poi li può restare, perchè non ho alcuna scopola... E... Altro... Altro... Passo per altri... Non ho a te... Mi sembra... Ah no, aspetta, perciò un secondo... Un secondo... Un secondo... Un secondo... Una potata da una pensare, perciò... Se tutto si passa... Poi... Prima attacco... Un attacco... Un attacco... Un attacco... Do... Un attacco... Un attacco... Nu virgo... 1... Un attacco... Dile... Sì... eeeh... 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 questa era abbastanza... questa non sono uscito da... ma non può sapere ma non può sapere ma non può sapere ma non è stato ma non è stato una brutta scelta ma non è eeeh... non può ok giusto è vero allora eeeh... 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 ok ok allora quindi andrei in questo punto in battle eeeh... 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 qui sono sempre 2,3 2,3 più 1,2,3 più 4 qui sono 2,3 più 1,9 potrebbero... 4,2 eeeh... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e poi faccio lui quindi toccano in mano ah hai una scelta per fare l'evocare? mi lasciavo fare figlio il drago, ne aveva un problema ma non è il mio? si pure E vai! Pesco! Si! Perfetto! Si! Perfetto! Perfetto! Siamo qua specialmente... Perfetto di mouse? Perfetto! 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 Nooo! Perfetto! Sono un idiota! Sono un idiota! Annalza! Ah dai, rimbazzo in mano! Sì! Ok, va bene! Primazzo... Primazzo... ma non si è fatta potrei fare una cosa però non dipende così attivo una qualunque cosa bellissimo bellissima partita ormai è arrivata per natale praticamente fatta grazie 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 grazie